Ello ragazzi, io sono Callari e oggi siamo ancora una volta su Fortnite Battle Royale Oggi in singolo perché voglio adedrare certe pezze Perché oggi sono sicuro che faccio due partite, due vittoria reali, 40 kill a partita E ne sono sicuro ragazzi, vedrete il video per capire tutto Ok, io direi di scendere più o meno qui, facciamo subito tutto quanto Non scendo direttamente dalla fabbrica perché credo ci vada qualcuno Poi vedo, un attimo, vorrei scendere qui Se poi nessuno ci va qualcuno qui, vado alla fabbrica Guarda, mi sembra proprio di no, quindi andiamo alla fabbrica fiorente O meglio, al laboratorio della latrina Anche se questo noi fa abbastanza schifo Allora c'è una cassa Con un vampa, bellissimo Questo sta venendo da me Ok C'è il pompa, sono morto Sì No mannaggia Quanta vita? 10 sicuro? Eh, 19 Ok, la casa per la nostra battita perfetta sarà Acri Anarchici Bene, buttiamoci, ok Andiamo impicchiata verso il mare perché così da giorno si apre più tardi E scendiamo prima Forse non vado proprio ad Acri Acri Ma dovrei andare a queste due casette qua Ok Allora, la cassa sta qui Apriamo questa cassa L'M4 grigio Upgrade incredibile C'è l'M4 verde, che dico E andiamo alla prossima casa Sperando non ci sia nessuno Perché mo' vedi muoio Per una trappola Invece no Una revolver Utilissima Mamma mia Provo quello che volevo E tu chiuditi Un'altra pistola Oh, eccolo qui Pompa viola Ottimo Lo scar Wow Questa casa forse l'avevo dovuta lutare per prima Ok Faccio così Al posto del revolver Mi riprendo l'M4 verde Perché Può essere che mi potrebbe servire Magari qualche volta Oh me No, dai Ma che schifo Madonna mia Vuole venire in bocca Col pompa Questo qua Sicuro C'ha la minican Davvero Vabbè Ti costruisco in bocca Allora Ho finito i materiali Loro ha finito i colpi Forse L'altro Potremmo ricaricare lo scar Sta avvenendo da qua sopra Ma non ha finito i colpi Mamma Già tuo nonno Sono morto Ok Eh vabbè E vabbè Che schifo Madonna mia Ok Bene ragazzi La nostra casa sarà Approdotto Avventurato Perché le cose partite Erano tutte partite Dove scendevo in posto Dove non andava nessuno E come mai Facevo a fare tante kill Come voglio Perché l'obiettivo di questo video È superare il mio record di kill Ovvero 10 E superare anche ninja Quelle 32 kill Io le faccio in un minuto Questa partita Ne sono sicuro Faccio vittoria reale E faccio 40 kill Non faccio 40 kill Non mi importa tanto Ma devo E dico Devo Vincere questa partita Ad Approdotto Non è sceso nessuno Mannaggia Alla Quindi forse Le 40 kill Non le faccio Però le potrei fare Anche fine partita Magari passo per pinna O le faccio Una strage Quindi Direi di scendere qui Prendere quest'arma E vediamo cosa succede Oh a terra ragazzi Questa partita è bella Iniziata davvero bene Davvero bene Sì Inizia dalla perfezione Ragazzi Una vittima L'ho trovata finalmente Ho camminato Verlande E deserti Ma finalmente Ho trovato la mia vittima La seconda vittima E poi non erano Anche altre 38 E così Potrò vincere Imbracciamo il pom Vendiamo il dinbok E invece no Sono morto Mannaggia Certo Inizia 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 Inizia